I consiglieri regionali comaschi di maggioranza si rivoltano contro l'assessore al welfare Guido Bertolaso dopo le dichiarazioni rilasciate ieri ai TV in cui ha annunciato che l'ospedale di menaggio non avrà più il pronto soccorso e si trasformerà in una struttura soprattutto per pazienti cronici. Il riferimento per le emergenze e i pazienti acuti sarà il presidio di Gravedone ed Uniti. Parole che segnano una spaccatura all'interno delle forze di governo in Lombardia. Si dicono basiti per le parole dell'assessore Bertolaso, il collega di giunta Alessandro Fermi e i consiglieri di maggioranza comaschi Giulia Laspezini, Marisa Cesana, Anna Dotti e Sergio Gaddi che non ci stanno. Contestiamo il metodo che in questo caso diventa anche merito, scrivono senza giri di parole in una nota. È stata annunciata la volontà di chiudere il pronto soccorso dell'ospedale di menaggio senza che né i rappresentanti regionali né i sindaci del territorio ne fossero a conoscenza. Eravamo tutti in attesa dei risultati di un'analisi commissionata da AS Settilariana sui servizi erogati da questo presidio, scrivono ancora, per poi studiare un progetto di consolidamento e potenziamento condiviso da tutti. Ci spiace che il senso di responsabilità e la collaborazione dimostrati da tutti i sindaci del territorio comasco in questi anni siano stati ripagati con un annuncio del tutto inatteso. Per i cinque rappresentanti comaschi in regione dunque la questione non si chiude qui. Nei prossimi giorni ne parleremo con il presidente Fontana, si legge infine nella nota per noi, per i cittadini e per i sindaci, la sopravvivenza dell'ospedale è una priorità non negoziabile. E se questi sono i toni della maggioranza, ancora più duro il commento dell'opposizione con il consigliere del PD Angelo Orsenigo che parla di decisione inaccettabile. Assistiamo ad uno sfregio al territorio che fine hanno fatto le rassicurazioni della direzione di AS Settilariana che solo lo scorso gennaio definiva il presidio un ospedale fondamentale per acuti e per rispondere alle esigenze territoriali e poi che fine hanno fatto le 14.000 firme dei cittadini, è una presa in giro in piena regola. L'annuncio di Bertolaso rincara la dose Orsenigo, arriva addirittura all'insaputa dei consiglieri regionali Lariani di maggioranza a dimostrazione di una giunta in panne, continua il consigliere che lancia la chiamata ad una grande mobilitazione in difesa del presidio. Primo passo, un incontro urgente tra Presidente Fontana, i sindaci e i consiglieri regionali del territorio. Dalla Regione al Parlamento l'annuncio fulminio dell'assessore Bertolaso guarda caso subito dopo le elezioni pronunciato senza nemmeno avere il coraggio di un confronto con le istituzioni sul territorio è la condanna a morte della sanità pubblica del centro Alto Lago di Como, così la capogruppo del Partito Democratico alla Camera, la comasca Chiara Braga che considera quella della giunta a Lombarda una decisione gravissima.